La città dell'Iran, una città antica eppure sviluppata, è situata nel nord ovest dell'Iran fra le montagne di Sahan e Einali che sono le più famose. Tabriz ha un popolazione di quasi un milione e mezzo di abitanti che parlano la lingua a zero. La città ha molti monumenti e luoghi di interesse. Ci vogliono almeno alcune ore per descrivere tutto. Così descrivo solo due di questi. La moschea blu Kyoymechit è una grande e storica moschea con una particolare piastrella blu sulla cupola e anche sulla pareti. Per questo colore particolare della moschea blu, Tabriz si chiama il turchese del mondo l'Islam. Altro luogo interesse è Grand Bazar di Tabriz, citato da Marco Pollo nel suo libro Il Milione. Bazar di Tabriz è unico per essere il più grande bazar coperto al mondo. Si può trovare quasi ogni cosa dai cibi ai vestiti, dai mobili ai tappetti preziosi, i souvenir come artigianato o le scarpe di pelle eccetera. Vabbè, ora ho intenzione di parlare di una bella caratteristica della cultura di Tabriz che mi piace molto, la sua danza. Certamente la danza non è solo la sua, ma anche della cultura della zero. Questo danza ha ritmi diversi, dal lento al veloce, eppure ha tipi diversi per i maschi e femmine. Ecco una parte della sua musica. C'è un'altra parte della sua musica. Per oggi finiamo qui. Ci risentiamo al prossimo programma con le presentazioni di un'altra città.